Buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori, questa è la Rassegna Stampa Occhio ai Giornali, siamo di nuovo in diretta anche questa mattina per sfogliare tra un istante i tre quotidiani con i titoli delle notizie più importanti. Come sempre prima però guardiamola Almanacco, il vecchio Almanacco con il Santo del Giorno, oggi è un santo che si occupò tantissimo nella sua vita dei lebrosi, padre Damiano, è un santo che nacque nel Belgio Fiammingo nel 1840 e aiutò davvero tanto i lebrosi, restituì a loro il senso della dignità, li aiutò a organizzarsi, a costruirsi per esempio una capanna, a coltivare piccoli appezzamenti di terreno. Finì talmente per sentirsi in comunione con loro da iniziare le sue omelie con le parole noi altri lebrosi e in effetti anche lui morì di lebra il 15 aprile del 1889, ai funerali partecipò una folla straordinaria di lebrosi inconsolabili, il sole è sorto alle 6.24, tramonterà alle 19.52, vediamo il tempo. Ecco intanto è un po' che non ci andiamo nella nostra pagina dell'osservatorio meteorologico di Fano TV che è accessibile dal sito internet occhianotizia.it andando sotto sotto in basso troverete la nostra stazione con tutte le informazioni, vedete la temperatura per esempio alle 7.32 di questa mattina è di 11 gradi e mezzo e poi con tutti i dati che ovviamente possono interessarvi come la velocità del vento, le precipitazioni e quant'altro. C'è anche la fotografia con la webcam che vi mostra uno scorcio della città di Fano, la parte nord, vedete sulla sinistra l'inizio della collina di Monte Giove e sotto davanti praticamente il codma di Rosciano di Fano. Le previsioni invece della protezione civile delle Marche, eccole qua, con sole su tutta la costa, temperature lieve aumento per la giornata di oggi, domani avremo una, avremo della nuvolosità maggiore con possibilità di deboli isolati rovesci solo però nelle zone dell'entroterra. Per la giornata di domenica 17 aprile, cielo sereno, poco nuvoloso con temperature in ulteriore lieve aumento, il tempo sarà stabile anche per tutta la prossima settimana. Allora adesso diamo un'occhiata ai giornali, cominciamo dal Corriere Adriatico di Pesaro, Pesaro apre con la notizia, intanto che il comandante Angelo Capuzzimato lascerà il comando della Capitaneria di Porto di Pesaro, saluta la città e va a Roma. Poi lancia il Eurofast che è il collegamento con la Croazia, un collegamento che ha portata di mano, ci sono questi nuovi collegamenti con i porti dell'altra sponda, lascia Pesaro, dicevo il comandante del Porto Angelo Capuzzimato per un incarico importante a Roma, al comando generale delle Capitaneria di Porto italiane. L'annuncio l'ha dato ieri in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova linea veloce per la Croazia che partirà dal prossimo mese di giugno. Poi le altre pagine del Corriere, quella di Fano, la cronaca, pistola sospetta in odore di mafia, era nascosta in un condominio, aveva la matricola a Brasa, quindi non si poteva leggere, viene da Napoli. Adesso sono stati coinvolti anche i carabinieri del RIS, infatti questa pistola sarà inviata a loro per valutare un possibile utilizzo in qualche delitto, noto quest'arma rinvenuta in una canalina di un impianto elettrico in un condominio a Tavernelle di Serrungarina. Si tratta di un revolver con una matricola Brasa perfettamente funzionante anche se in un cattivo stato di conservazione. Nella pagina di Fano del Corriere vedete l'altra notizia è quella che il comune di Fano vende beni per oltre 4 milioni, l'immobile di maggior valore è il comparto edificabile in Viale Piceno. All'asta anche due poderi di notevole estensione. Poi si parla del campionato di scacchi, record di giocatori al Palagei, ne sono arrivati 350 da tutta Italia, il 16enne Rambaldi vince due titoli italiani assoluti. Ancora dal Corriere, ospedale nuovo, è l'ora del protesta. Le associazioni ambientaliste, lanciano la manifestazione per il 15 maggio a Fosso Segliore, sito e project finiscono dunque nel mirino, tutti per dire che cosa? Per dire no a Fosso Segliore e no a questo progetto di finanza. E sì invece a scelte sanitarie condivise. Si può sintetizzare così, si possono sintetizzare così, questi tre punti unificanti, questo appello alla mobilitazione per difendere non solo l'integrità dell'area di Fosso Segliore, ma anche le casse pubbliche dalle conseguenze di questo project financing che è in edilizia sanitaria. Poi ci sono le altre notizie che riguardano anche gli altri paesi qua attorno, come Fosso Ombrone, confermato l'avvio del centro dialisi dopo la sparizione della delibera 735, il sindaco Pelagaggia dice un errore di battitura, a maggio la risonanza magnetica. Poi sempre dal Corriere, scarichi quelli della piattaforma, scarichi ok, nessun allarme, la deputata Morani smentisce l'inchiesta televisiva, niente inquinamento. E poi ancora l'altra pagina, quella di Fano e Valle del Cesano, da Pergola, dopo l'esplosione del Bancomat all'interno dell'ospedale, all'ingresso dell'ospedale di Pergola, unica traccia, una BMW bianca, è quella che è stata vista da un'infermiera. Ascoltata la testimonia, testimonia che ha visto i tre banditi in fuga dall'ospedale, hanno impiegato qualche minuto soltanto, in questi casi sono davvero velocissimi, fanno saltare in aria il Bancomat e poi fuggono immediatamente. Questa volta sono fuggiti a bordo di una BMW bianca con poco più di 6.000 euro, che è quello che c'era dentro la cassetta di sicurezza del Bancomat. Da Senigallia invece i sindaci dicono sì alla maxifusione dei comuni, avrà un bacino di 80.000 abitanti e oltre 500 dipendenti. Mangialardi dice che si precorrono i tempi. La formale istituzione dal 1 gennaio del 2017 avrà la possibilità di accedere a maggiori risorse. Dunque si va verso l'unione che accorpa tutti i comuni delle valli Nisa e Nevola. Quindi come vedete non è solo una questione della provincia di Pesaro, Rubino, Tavoleto oppure Mombaroccio, Pesaro. Ormai è un processo che a quanto pare si sta iniziando e che sarà inarrestabile chiaramente perché ormai davvero le risorse non ci sono più o comunque bisogna ottimizzarle al meglio e fare meglio che si può. Andiamo adesso a leggere il messaggero. Questa è la pagina di Pesaro. Ci sono gli 80 anni di Giancarlo Selci, chiaramente per lui, attorno a lui, in tanti a fargli festa. Voglio vedere la mia BS crescere ancora, sono le sue parole. Ha 80 anni ma non ha per niente voglia di godersi la pensione. Tutti i giorni è in azienda, tanto che nella targhetta della sua stanza non viene indicata nessuna carica. Semplicemente Giancarlo Selci sotto la scritta BS perché l'azienda l'ha fondata lui nel 69 con il fratello e un socio. Ora conta 3200 dipendenti. Domani è l'evento per festeggiare gli 80 anni del fondatore. A centro pagina referendum, il giorno del referendum, doppio scontro. Pesaro e Mombaroccio al voto per la fusione tra tensioni e reciproche accuse dei comitati. Trivelle, sigillo di Comi sul Partito Democratico diviso. Mi astengo, dice lui. Marco Re, Covatta e Iacchetti invece a Fano per il sì. Ancora sul messaggero Sanzio, l'aeroporto condannate Moriale a tre anni. Spese con i fondi. La Erdorica ha invece chiesto un risarcimento di 200 mila euro. Sentenza il 28 di aprile. La pagina di Fano invece del messaggero. Il 15 di maggio il corteo contro l'ospedale a Fosso Segliore. Mobilitazione provinciale si punta a bissare l'exploit della marcia dei 500 ma l'organizzazione inizia già in salita. Pronunciatevi anche sul nosocomio unico. Diverse associazioni coinvolte. La prima riunione per questa iniziativa del 15 maggio si terrà a Pesaro venerdì 22 aprile. A centropagina l'arca di Noè in città. Coppia dal giudice. Nel giardino cani, gatti, maiali. Insomma c'aveva di tutto. La convivenza però impossibile con il vicinato sfocia in una denuncia. E poi l'altra notizia che riguarda un altro processo ha cercato di uccidere la nonna e ora vuole parlare a tutti i costi. Anche questa è una notizia che riguarda un processo che è in corso sulla pagina di Fano del messaggero. Chiudiamo con il resto del carriero. Questa è la prima pagina, la pagina principale. Addio banche. La popolare dell'Adriatico non esisterà più come istituto autonomo che viene inglobato da Intesa. E dunque si chiude qui una storia di 140 anni. Poi il lancio del catamarano che amplia le rotte da Pesaro alla Croazia. C'è anche l'Ibizza della Croazia appunto in questo collegamento. Oltre a Lussino e Rovigno collegherà l'isola di Pag. Intanto il porto antico sarà dragato. Anche qui la gran festa dell'ABS per un patron così schivo. Gli 80 anni di Giancarlo Selci sotto il bidello violento con la pistola brasa nascosta nel vano scala. Ha denunciato dai carabinieri di Saltara un campano. E poi il sindaco in tv Matteo Ricci piace ai pesaresi. Non dispiace ai pesaresi. Il 63% infatti ne apprezza le apparizioni in televisione, nei canali in particolare quelli della RAI. Per il 56% degli intervistati queste apparizioni portano benefici alla città. è un sondaggio della società Sigma Consulting di Pesaro. I cittadini dicono che punta Matteo Ricci al Parlamento. Fano il resto del Carlino trivelle e scarichi. Tutto è regolare. L'onorevole Morani a proposito dell'inchiesta di La Sette. Il rilascio di acque è infatti autorizzato. Le analisi sono ancora in corso. Domenica, dice lei, non andrò a votare. Questa è la pagina di Fano del resto del Carlino. Sempre dal quotidiano bolognese TAP commessa da 200 milioni per la Saipem. La controllata Eni realizzerà il gasdotto sottomarino che unisce Albania e Italia. La Trans Adriatic Papelain porterà gas naturale dalla Azerbaijan all'Europa. E dunque questa è a tre giorni dal referendum una buona notizia per gli 800 dipendenti della Saipem di Fano. Sui progetti dello zuccherificio, progetti di zuccherificio, il Comune passa la mano adesso agli imprenditori. Che fine faranno i cinque progetti sull'ex zuccherificio? Si era parlato della città della moda, della città dei servizi pubblici e privati, della cittadella dei giovani, del Green Village Mondo Canapa, l'altro progetto New Town, frutto del lavoro partecipato voluto dall'assessore Marco Paolini. Che fine faranno? Questa è la domanda. Poi da Fossombrone torna la fontana, recuperata l'opera di Bianchi, è stata collocata in sede già alcuni giorni fa, la fontana del scultore Bruno Bianchi, una fontana datata a 59, che d'ora in poi presiderà il centro della rinnovata piazza Giovanni XXIII, quella su cui si affaccia la chiesa di Santa Maria Ausiliatrice. Ok, è tutto per la rassegna stampa di oggi, Occhio ai giornali torna domani mattina, stasera invece alle 20.30 c'è il nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.